Il nuovo Abruzzo è già realtà. Il presidente della regione Abruzzo con il vicepresidente dell'Aggiunta Imprudente, il sottosegretario D'Annuntis e il presidente del Consiglio Sospiri ha annunciato oggi una serie di interventi che riguardano le infrastrutture e che fanno parte di un programma complessivo. Ci sono molti fondi per l'Abruzzo, 62,9 milioni di euro in totale per l'infrastrutturazione per le zone economiche speciali e quindi ci sono interventi per Manoppello, per completare la ferrovia regionale Fossacesi a Castel di Sangro, per il porto di Ortona con vari fondi e poi ancora Porto di Vasto, Porto di Pescara, Porto di Giulianova. Con RFI, ha detto poi Marsiglio, si è condiviso il progetto per portare a Vasto il treno sulla banchina, fondi CIPES anche per la ferrovia regionale nell'area industriale della Val di Sangro, con 40 milioni per il potenziamento e l'adeguamento della tratta Fossacesi a Castel di Sangro. Ci sono poi altri strumenti in arrivo, la grande occasione è quella data dal PNRR con 123 milioni di euro per i quali è stato autorizzato il piano stralcio per interventi infrastrutturali, riqualificazione edilizia urbanistica del territorio. Questi fondi in parte si useranno per interventi ex masterplan che avevano già la progettazione e per altre misure approvate col cura Abruzzo, anche sulle borse di studio interamente finanziate, rifinanziate poi alcune leggi, ha detto Marsiglio, ci saranno interventi sugli impianti sportivi, contributi a parchi e comuni, anche al Parco Sirente-Velino. Nella legge di bilancio 23,5 miliardi sono il rifinanziamento della legge per lo sviluppo e la coesione. Accolte richieste sulle quali l'Abruzzo ha incalzato i tre governi che si sono succeduti, nessuna opera dell'accordo provenzano non sarà rifinanziata, ha chiarito il governatore. Legati al sisma ci sono 10 milioni che sono fondi per la progettazione del quinto lotto della dorsale Amatrice Monteriale L'Aquila e per la pedemontana nord Teramo a Scolipiceno. Per l'area interna 21,5 milioni serviranno per adeguare e mettere in sicurezza cinque aree interne abruzzesi. Per la ferrovia adriatica 5 miliardi per la nuova linea alta velocità adriatica con la messa a norme dell'intera tratta da Bologna sino a Lecce, un investimento questo molto importante e poi le autostrade, 3 miliardi più un altro miliardo per l'adeguamento e la messa in sicurezza della 24 e della 25, una notizia che il governatore aveva anticipato in un'intervista a Rete 8 la scorsa domenica. Previsti poi dalla legge 145 del 2018 degli interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza e miglioramento della viabilità con 135,2 milioni per il periodo 2021-2034, 18 milioni per l'annualità 2021-2022, un capitolo a parte poi per i progetti bandiera per infrastrutture ferroviarie e stadali, 131,2 milioni, 100 milioni per il potenziamento della Roma Pescara e il resto per il potenziamento e la manutenzione della rete viaria. Il contratto istituzionale di sviluppo prevede invece 21 milioni ripartiti per diversi interventi. La regione è pronta poi per portare in giunta la carta degli aiuti. Nel 2014 c'erano 250 mila cittadini serviti, oggi sono 720 mila. Purtroppo è un gap che dura da decenni, non si colmerà in poco tempo, ma i passi che stiamo facendo credo che siano davvero decisivi. Si parla di alta velocità sulle ferrovie, si parla di autostrade messe a norma, modernizzate e anche rettificate, si parla di interporti che finalmente dialogano con i porti, si realizzano gli ultimi migli ferroviari sia a Vasto che a Ortona, si realizza e si completa il porto di Pescara con il Molo Sud. Insomma è un complesso di interventi che metterà in condizioni finalmente l'Abruzzo di comunicare e di dialogare con il mondo.